La ricerca sui vaccini ha molto puntato sul loro potenziamento in modo tale da migliorare la risposta immunitaria. Questo l'abbiamo visto di recente con i vaccini proteici adiuvati per il Covid. Abbiamo cercato di capire meglio come funziona l'adiuvante, quali caratteristiche deve avere per essere realmente efficace parlando con la professoressa Azzari che abbiamo incontrato qui a Cernobbio nel corso della conferenza nazionale straordinaria di sanità pubblica della City. Tra i vaccini a disposizione nella prevenzione del Covid c'è anche quello a subunità proteica adiuvato. Che cos'è l'adiuvante e qual è la sua funzione? L'adiuvante è una molecola che sta sempre nei vaccini. È molto importante devo dire perché l'adiuvante, adiuvante vuol dire aiutare, aiuta il sistema immunitario, aiuta la risposta. L'adiuvante deve fare un pochino di infiammazione perché senza un pochino di infiammazione la risposta immunitaria non parte. Senza un pochino di infiammazione non abbiamo la produzione di anticorpi. Quindi l'adiuvante è quello che innesca la risposta. Con un buon adiuvante abbiamo una buona risposta. Con un pessimo adiuvante avremo una pessima risposta anticorpale. Tra gli adiuvanti c'è il Matrix M. Ci dia qualche informazione in più e qualche dato di esperienza real world? Il Matrix M è un adiuvante che viene fatto da delle proteine che derivano dalla corteccia di un albero. Si chiamano saponine. Sono utilizzate anche nell'industria alimentare per fare la spuma sui gelati e altre cose di questo genere. Nel caso degli adiuvanti alcune di queste saponine sono particolarmente efficienti nel indurre una risposta immunitaria. Vengono mescolate in proporzioni adeguate perché bisogna mettere insieme quelle che danno più risposta immunitaria ma anche quelle che danno meno fastidio, meno dolore, meno bruciore, meno infiammazione. Quindi con una miscela adeguata si ottiene quello che è il Matrix M che non è altro che una miscela di diversi tipi di saponine che appunto servono a indurre una risposta immunitaria adeguata. Dati di esperienza real world sull'uso del Matrix M ne abbiamo. Ci sono tanti dati di studi che hanno dimostrato che il Matrix M funziona molto bene per esempio in vaccini contro il covid. Quello che si è visto è che con l'aggiunta di questa adiuvante il vaccino induce un titolo anticorpale elevato che dà la probabilità di essere protetti contro il covid anche fino al 90% dopo le prime due dosi ma soprattutto dà una caduta nel tempo di anticorpi molto lenta per cui ancora dopo 6-12 mesi abbiamo dei titoli anticorpali soddisfacenti. Induce anche quella che è la memoria immunologica che per noi è particolarmente importante per cui quando facciamo la dose booster abbiamo un incremento molto elevato di nuovo di produzione di anticorpi. Gli studi sono pertanto molto soddisfacenti sull'uso di questo Matrix M nel vaccino anti-covid. La adiuvante Matrix M può essere aggiunto anche ad altri tipi di vaccino? Quello che è stato fatto fino adesso i dati real world ci dicono che per quello che riguarda il vaccino del covid ha funzionato benissimo induce una risposta con altri titoli che dura tanti mesi quindi ha funzionato bene però si può usare per tutti i vaccini si può inserire in altri vaccini proteici costruiti con la stessa piantaforma penso per esempio al vaccino dell'influenza a dei vaccini combinati covid più influenza ma vaccini per la malaria si può utilizzare in tutti i vaccini proteici che vogliamo.